Musica Quando abbiamo fatto le presentazioni di prima delle feste natalizie c'erano alla fine dell'anno scorso, c'erano le lotte, lo sciopero generale della CGL quindi ho detto ma sarà giusto il sottotitolo a resa del più forte sindacato d'Europa? Forse sono stato troppo pessimista visto in queste giornate in cui uno sciopero generale che è riuscito, che ha dato un segnale, è scomparso. Ti fa dire che se il sindacato, un pezzo, una parte, insomma chi vuole non arrendersi non cambia rotta, non butta a mare tutto il sistema delle compatibilità tutti i piccoli compromessi della vita quotidiana cioè se non si sceglie un'opposizione vera qui precipichiamo in un disastro senza precedenti. La questione è la possibilità effettivamente di stare dentro un posto di lavoro a testa alta con le spalle dritte, insomma. Il Jobs Act ha concluso il progetto che aveva già iniziato la Fornero è proprio di pochi giorni fa la notizia che durante le feste di Natale alla Piaggio, che non è un'aziendina, l'azienda si è permessa di inviare a casa lettere a lavoratori operai che hanno fatto un po' di malattia l'anno scorso per dirgli a modo abbastanza spiccio vedi di metterti in regola, non fare più troppa malattia perché poi se no diventi incompatibile con la competitività del sistema oggi c'è il rischio appunto che chi sta dentro un posto di lavoro si senta davvero con la mannaia sul collo, cioè con la paura continuamente di essere mandato fuori. Renzi ha detto noi abbiamo salvato il contratto a tempo indeterminato no, ha tolto il tempo c'è solo il contratto indeterminato nel senso che ti possono fare quello che vogliono ecco, se noi accettiamo un sistema in cui la cosiddetta ripresa è una ripresa in cui dopo aver fatto milioni di licenziamenti quelli che tornano al lavoro tornano senza diritti siamo tornati al medioevo e questa è una grande questione perché non è solo una questione sociale è una questione politica, è una questione umana pensiamo a quello che è successo in questi giorni l'attacco dei terroristi islamici usando il disagio e la disuguaglianza delle periferie contro i giornalisti e contro anche gli ebrei che stavano al supermercato cashier quello è un segno di questo mondo occidentale di merda che produce mostri produce mostri perché non è che quelli lì sono nati da fuori sono nati dentro, sono nati dall'abbandono dello stato sociale, sono nati dall'abbandono dell'idea di uguaglianza, dell'integrazione e la reazione che c'è è la stessa di Renzi è questo che a me colpisce per cui dico che c'è bisogno di una rottura perché Renzi che cosa ha fatto? Renzi dopo 30 anni che i lavoratori italiani prendono botte da tutti i tipi sono flessibili in tutti i modi, ha detto in Italia non c'è flessibilità e ha fatto l'ultima volta come se per 30 anni i lavoratori avessero vinto in Francia, in Europa dopo 30 anni di lotta al terrorismo con le corazzate, con i bombardamenti con gli interventi militari più scriteriati adesso si dice non abbiamo combattuto a sufficienza cioè questo è un meccanismo che va interrotto a tutti i livelli se non si rompe questo meccanismo della competitività dei valori occidentali noi troveremo solo mostri o disastri o disagio sociale per cui anche sul piano sindacale ci vuole una rottura con la storia di questi ultimi anni se l'obiettivo è quello di spargere rassegnazione noi gli vogliamo proprio dire che noi non ci arrendiamo a questa rassegnazione qui e ci vuole troppo Grazie a tutti.